Radio Radicale, 30 anni fa si concludeva una delle più grosse battaglie politiche e referendarie che poi portarono alla nascita della cosiddetta Seconda Repubblica. I referendum del 18 aprile del 1993 furono spartiacque in un momento di gravi tensioni politiche, di avvisi di garanzia, di delegittimazione della classe politica attraverso l'iniziativa di un gruppo di magistrati di Milano che stava mettendo a soccuadro il mondo politico. Noi vogliamo ricordare quello che accadde il 18 aprile del 1993 con il principale protagonista di quella storia, Mario Segni che a capo del comitato promotore dei referendum ottenne quella grande vittoria che segnò anche la fine del governo amato. Allora oggi a 30 anni di distanza che cosa può dire di quella battaglia, di ciò che è stato e soprattutto di quella che lei in un libro ha definito come la rivoluzione interrotta? Bisogna ricordare che cosa ha determinato quel voto referendario straordinario, non dimentichiamo, perché tra l'altro fu il referendum che il maggior numero disside la storia repubblicana, quindi fu spinto da una passione popolare gigantesca. Portò il maggioritario, c'è un sistema per cui per quattro volte, perché durano in vigore quattro volte, i cittadini votarono praticamente scegliendo la maggioranza, il premier e i singoli parlamentari direttamente. Due volte vinse Berlusconi, due volte vinse Prodi, ma per la prima volta gli italiani passarono da un voto in cui sceglievano i deputati ma non potevano nulla sul governo, non dimentichiamoci, diventarono presidenti del Consiglio Scraxi e Spadolini, cioè ripartiti dal 10 al 3%, a un voto da cui veniva fuori direttamente una maggioranza e un premier. Questo fu il significato. E fu possibile, questo voglio ricordarlo perché chi non c'è stato fa fatica a capirlo, questa straordinaria esplosione referendaria che era iniziata da molti anni, ma che in quegli anni raggiunse il massimo, per il momento in cui viveva non solo l'Italia ma il mondo. Era appena crollato il muro di Berlino. Fu un periodo di straordinario entusiasmo, di ottimismo, di speranze in tutto il mondo. E fu così che un movimento basato solo sull'adesione popolare, solo sulla passione dei cittadini, sconfisse un mondo politico che aveva un potere gigantesco, quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto schierato contro. Il referendum, secondo lei, determinò la fine della democrazia cristiana. Le volevo chiedere se Martina Zolli all'epoca le fece i complimenti per quella vittoria. Guardi, io credo che il sistema dei vecchi partiti fosse già finito da prima. Noi al massimo abbiamo stilato il certificato di morte. Ma Martina Zolli era una degnissima persona, ma non era un uomo che potesse, né la democrazia cristiana poteva passare da leader del vecchio sistema a un sistema completamente nuovo. Quindi era una fine già decretata, non fu monoglia. Uccidere la democrazia cristiana, che fu peraltro per tutto il periodo precedente, sino a che poi il mondo non cambiò, un partito straordinario. Non dobbiamo dire... Lei il 18 aprile del 1993 era ancora iscritta alla DC? Era ancora nel gruppo parlamentare? Uscì dal gruppo democraziano poche settimane prima del voto. Per sottolineare proprio in qualche modo la estranetà del voto referendario a tutto il sistema dei partiti. Senta, le volevo chiedere una cosa. Qualche giorno prima del referendum ci fu l'audizione di Andreotti all'Aggiunta delle Immunità per le accuse che lo riguardavano i suoi rapporti con la mafia. Lei, quando vede quei due giorni di audizioni di Andreotti lì al Senato, che cosa pensò? Ebbe paura che, diciamo, anche che per l'uomo più rappresentativo della democrazia cristiana potesse poi crollare proprio tutto il sistema? Guardi, io avevo sempre un grande rapporto di stima verso Andreotti, e un rapporto politico a volte burrascoso, come dato quello che ho fatto era logico. Sono sempre stato convinto che Andreotti non ebbe mai nessuna responsabilità personale, quindi penale. Sono sempre stato altrettanto convinto che Andreotti ebbe delle responsabilità politiche, anche nel settore della mafia, per il suo rapporto con una serie di esponenti siciliani mafiosi. Ma la battaglia andava condotta, non dai giudici, sul codice penale, che in realtà non c'entrava niente, ma andava fatta, come la stavamo facendo noi, dentro o fuori la democrazia cristiana, per un cambiamento politico. Senta, ci fu un piccolo giallo prima del referendum, perché poi si scoprì che nella scheda, diciamo, referendaria, il sì era scritto male, cioè non c'era l'accento sulla i. Allora, lei ebbe l'idea, il sospetto che ci fu, diciamo, un complotto per invalidare il referendum in quei giorni? No, ci fu anche un'altra piccola irregolarità, tanto è vero che io la mattina, dopo aver votato, scoprì che c'era qualcosa di strano, cioè, se non ricordo male, c'era una specie di carta a carbone, insomma, qualche cosa che non andava. Telefonai a Mancino, che era il ministro degli interni, immediatamente Mancino, persona correttissima, poi non sapeva nulla, non si era accorta, e mi assicurò che avrebbe, per quel che era possibile, perché le schede erano fatte, ma che comunque il governo non avrebbe tenuto minimamente in conto. No, complotti non ce ne fu. Senta, mi vuole dire che il rapporto aveva con Occhetto, che insieme a lei si prese anche una buona fetta della responsabilità di quella vittoria. Allora, lei nel 94 poi non decise di prendere una strada diversa da quella di Occhetto e dei progressisti. Allora, che rapporto aveva con Occhetto e soprattutto che cosa poi non la convinse l'anno dopo, al punto da non fare un'alleanza con i progressisti? Con Occhetto ebbe sempre personalmente un ottimo rapporto e politicamente Occhetto ebbe una grande peso, una grande importanza nella battaglia referendaria, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Chi ha a cuore in Italia lo sviluppo delle istituzioni deve ricordare che tutta quella vicenda, sia quella del 93, sia quella che aveva portato già prima la lezione diretta del sindaco, ebbero in Occhetto un attore determinante. Non avremmo vinto il primo referendum, non ci sarebbe stato nessuna vittoria referendaria senza di lui. Questo bisogna dirlo. Lui si era schierato quando voi avevate costituito la Lega per il collegio uninominale, avevate fatto i primi passi. Lui vi aveva sostenuto nei primi momenti della battaglia che intendevate portare avanti anche con Pannella? Sì, assolutamente. Anzi, ricordo che il primo contatto pubblico che ebbe su questo tema fu proprio con Pannella. Io alludo anche a Occhetto, insomma, devi aiutare. Sì, sì, ma Occhetto fu proprio con Pannella, c'è un colloquio di Occhetto Pannella, che è clamoroso, in cui Occhetto disse appoggio questo, anzi io dopo credo di rimproverare, ho detto, hai fatto benissimo, però guarda che devi chiarire che non sono solo Occhetto Pannella, che c'è anche grazie a Dio, un mondo molto più ampio. Sino fu assolutamente sempre coerente, anche contro una buona parte del suo partito, che fu invece duramente contraria. Occhetto fece una gran fatica a mobilitare il proprio apparato su questo tema. Senta, lei all'epoca conosceva già Berlusconi, le volevo chiedere se Berlusconi in quel periodo l'aveva corteggiata e l'aveva in qualche modo spinta a diventare leader di uno schieramento, perché si è parlato molto del fatto, delle aspettative che aveva Berlusconi nei suoi confronti. Lei che rapporto aveva con lui e soprattutto se l'aveva sostenuto in qualche circostanza? Ma aveva un ottimo rapporto con lui, lui non aveva mai fatto politica, io non mi occupavo dei suoi problemi naturalmente, ero al di fuori. Occhetto Berlusconi sosteneva e chiedeva di lavorare assieme in qualche modo per creare un polo liberale democratico. Ecco, lui sosteneva i referendum, lui si schierò apertamente per il referendum o no? No, non si schierò mai, né pro né contro. Era per il suo legame con Craxi che aveva all'epoca? Probabilmente sì, devo dire però che Berlusconi, mentre culturalmente era un maggioritario, non poteva non esserlo, poi ebbe sempre una grande diffidenza verso le battaglie successive. In qualche referendum successivo fu addirittura contrario, perché riteneva che il meccanismo maggioritario in Italia aiutasse la sinistra. E che poi si dimostrò non vero, perché dopo che fu introdotto, dove si è due volte lui e due volte pro, si spartirono la vittoria. Comunque, lui diceva che dobbiamo lavorare assieme noi due per creare questo, ma io ero contrario al suo ingresso in politica, non a lui, per il motivo del conflitto di interesse. Io credo che quello si è stato... Ma lei glielo disse apertamente a Berlusconi? Sì, apertissimamente, apertissimamente. Mi invitò a pranzo a casa sua, c'era Gianni Letta e Confalonieri, si parlò a lungo, e io gli disse, me lo ricordo sempre, guarda, in Italia probabilmente non c'è nessuno che farebbe il ministro dell'industria meglio di Gianni Agnelli. Ma se tu fai il ministro Gianni Agnelli, nessuno in Italia crede più che quello che fa sia fatto per l'Italia, credono tutti che sia fatto per la Fiat. Se tu, un'impresa che ha grandissimi rapporti col mondo politico, perché ti pensi alla strategia, ai problemi di televisione, eccetera, eccetera, scendi in politica e tutti penseranno che fai politica per le tue televisioni, questo, giusto o no che sia, ti creerà dei problemi enormi. Devo dire che su questo ebbe ragione, sono convinto di averle dato un consiglio giusto su questo tema, naturalmente, perché fu veramente, il conflitto dei interessi fu quello che proprio, uno dei maggiori ostacoli che ebbe Berlusconi nella sua azione di governo. Senta, lei rimase contento del lavoro che fece poi il Parlamento per realizzare la sua battaglia referendaria. Allora, che rapporti ebbe in quel periodo, diciamo, con Mattarella, che fece la legge elettorale che doveva materializzare, l'esito del referendum, e se poi, ecco, alla prova del voto, questa legge elettorale poi si è dimostrata piena di difetti, perché poi, lei ricorderà, Berlusconi vinse al nord con la Lega e al sud con Alleanza Nazionale, cioè fu un risultato, diciamo, vinse sì, però vinse a rate, al nord e al sud. Beh, questo però non era un problema che poteva togliergli la legge elettorale, doveva formare una coalizione, si trovò con questo problema. Però, intendiamoci, la legge che venne fuori non fu la legge che chiedevamo noi e che interpretava il referendum. Quindi lei andò in contrasto con Mattarella che... Mattarella era un democristiano e seguiva la legge democristiana e entra in contrasto con loro, perché noi chiedevamo la legge che poi andò per il Senato, in cui c'era il 25% proporzionale, ma c'era andata per tutte le leggi nominali, non voglio entrare in dettagli tecnici, ma rispetto al risultato del referendum, quella legge che oggi vorrei mettere dieci firme per tornare a quella legge lì, in tenere di alloggi, fu un passo indietro che aiutò poi la reazione. Senta, non si pentì del fatto di essere uscito dalla democrazia cristiana, magari dentro la democrazia cristiana avrebbe avuto ancora un ruolo importante per ottenere quella legge elettorale che diceva avrebbe voluto lei e soprattutto se lei oggi ha ripensato, se avrebbe potuto fare qualcos'altro di diverso in quei mesi, se ci ha pensato tante volte, anche entrare nel governo Ciampi. Guardi, naturalmente le cose che sarebbero potute fare, ci sono, certamente, errori se ne fanno, figuriamoci se non ne ho fatto io, però che potesse in qualche modo trasformarsi la democrazia cristiana in uno dei poli e quindi in un protagonista del sistema maggioritario era impossibile. E adesso lo vedo più chiaramente allora. Adesso c'era un partito che era nato in un'altra situazione soprattutto se l'ha sviluppato con un'altra funzione perché i tempi ed i gasperi erano una cosa diversa, non poteva essere il polo di centrodestra, di bravo, di cercate. era proprio fuori dalla sua... Però ecco, ritiene che il mattarellum è stato l'ultimo colpo di coda della democrazia cristiana? No, l'ultimo colpo ne hanno andato parecchi di colpi di coda, ma non fu solo quello, fu anche una serie di leggine successive e poi contribuirono moltissimo alla caluta del referendum alcuni anni dopo il terzo referendum che avrebbe dovuto completare il maggioritario e che perdemmo per una manciata. Per i voti di Napoli? Io me lo ricordo, ero al Viminaldo. Certo, ha ragione, quando ci dissero cosa manca, solo Napoli, capimo che era finita, però non è colpa... No, perché poi il giorno dopo alcuni giornali uscirono che avevate vinto il referendum, erano andati in macchina dicendo... Certamente, certamente, perché alle due di notte eravamo ancora in testa, ma non è colpa... Cioè i napoletani votarono come sempre stato con un'affluenza, ma era un problema sull'affluenza, è sempre stata la grande del sud da Napoli in particolare, quindi non gli voglio dare la colpa. Quando seppi che mancava solo Napoli e l'affluenza era proprio intorno al 50, capii che era la battaglia. Lei chiede a pannella un passo indietro, cioè gli disse prima della battaglia referendaria che arrivasse al culmine resta indietro perché potrebbe... Il primo referendum, sì. E ci fu infatti una litigata furibonda tra lei e pannella. Lei e pannella, certo. Al quale voleva un gran bene, col quale aveva un rapporto di amicizia e stima certamente ricambiato, ma con il quale non mancarono come attritti e litigati fortissimi. Perché il pannella aveva appena portato in Parlamento Cicciolina. Beh, l'aveva portata nell'87. Nell'87, sì. Non era... No, il problema non fu nel referendum, fu nel 90. Quindi Cicciolina era ancora fresca. Sì, sì, era ancora in Parlamento. Era ancora in Parlamento. e noi non potevamo correre il rischio di fare una riunione iniziatta magari al mondo cattolico più tradizionale. Dove veniva anche Cicciolina. E allora gli chiedemmo di non entrare nel comitato promotore. e lui l'ha preso male su questo. Però poi in realtà la battaglia fu sempre questa. Pannella, si ricorda se le disse mai tu sei troppo amico dei comunisti? No, sempre me lo diceva. Non solo, Pannella. Mi diceva tu sei un cripto comunista. A me... Ma lei si è sentito mai cripto comunista? Anche per la storia di suo padre che non era molto amato dai comunisti. Ma guardi, io ho fatto negli anni precedenti una battaglia frontale e convintissima contro il compromesso storico. Ero contro il partito comunista al governo. No, Pannella. Ma Pannella era fantasiosa. Ultima domanda. Lei che ne pensava di quello che stavano facendo i giudici del pool di Mani Pulite? Pensa che quella cosa fu salutare o ritiene che ci furono parecchie ingiustizie? Guardi, Mani Pulite fu una necessità a un certo punto. Perché? Il sistema politico e amministrativo era un grado di corruzione spaventosa. Questo glielo posso dire vivendo dentro un grande partito come la democrazia cristiana. Non ci accorgemmo però che mi era accorso in ritardo che purtroppo in questa azione che era doverosa, devo dirlo, furono commessi due arbritti terribili che nocquero tutto il sistema politico. Quindi c'è stata una prima parte dovuta e poi c'è stata invece un'invasione da parte dei giudici. C'è una vicenda personale di qualcuno di questi esponenti della DC che la colpì, la dolorò particolarmente oltre a quella di Andreotti? Beh, tante, perché ci furono tanti casi, purtroppo, devo dire, di inchieste giuste che colpivano problemi che c'erano ma poi si vide a un certo punto che c'erano persone che non c'entravano nulla, toccate, ferite, furono fatti drammatici. Senta, da quella vicenda lei ha capito che l'Italia non sarà mai un paese di rivoluzioni? Sì, su questo devo dire e lo vediamo confermato anche in questi giorni. D'altra parte, chi si stupisce perché in Francia fanno quello che fanno per due anni di pensione dimentica che... Che noi non abbiamo fatto niente. appunto, mentre due secoli fa allora hanno fatto la rivoluzione francese che ha tagliato la testa al re e a metà gli aristocratici, quindi un popolo ben diverso e quindi sotto questo aspetto si può anche elogiare la tranquillità però certamente è molto difficile suscettare sentimenti aperti e forti di cambiamento in Italia più che in altri paesi e questo è certo. Ok. Appurato questo io la ringrazio. è stata divertente abbiamo riflettuto un po' su quello che accadde trett'anni fa ci crediamo che tu sei un cripto comune chissà perché poi ero proprio cripto perché vorremmo anche criptofascista magari no, no criptofascista no, no quello è l'uno è l'altro non capito forse questo però era un rapporto affettuosissimo che avevo un pannello certe volte da impazzire trattare il pannello eh lo so sono assistito a alcune trattative guarda la trattativa quella poi in definitiva quella volta poi lui c'è tu soffesi lo capisco anche in tedesco umanamente lo capisco però necessario andiamo con scoppolo andai io a scoppolo a dirgli che non poteva entrare però poi state fuori dignitosamente offeso ma invece fu complicatissima la vicenda nel referendum quello poi che finì appunto ah quello con il 49,9% esatto nel quale lui a un certo punto rompemmo rompemmo perché veramente era impossibile la trattativa poi dopodiché lui fece la campagna ugualmente per conto suo come faceva lui naturalmente strane perché pannello tra l'altro si era convinto che poiché la confindustria ci aiutava apertamente e fu sempre un aiuto importantissimo l'unica volta la confindustria ci si è in campo era convinto che ci desse anche un mucchio di soldi ah ho capito 200 anni i soldi e allora lo diceva vado dice poi tra l'altro la spesa non costava e poi noi chiediamo non ci da una lira sia chiaro appoggio benissimo ci organizza i consegni fondamentali politicamente non c'è un euro che c'è ancora l'altro io non mi avete mai si offese a morare questo punto e poi c'è la campagna lo stesso per conto suo invece di portare le firme al comitato le portò direttamente in Cassazionale facendo tutte queste scelaggiatte di cui c'era anche il referendum sulla droga se non ricordo sì lei lo ha no io dissi ci fungiallo questo nel 93 c'era il referendum sulla droga e io dissi pubblicamente invitai a votare tutti i signi con un rimprovero molto aspro e amichevole però aspro che mi colpì molto di Gianmarco Moratti di cui era molto amico Gianmarco di quello che è morto che è uno dei fondatori di San Patrignano il quale venne a trovare proprio popigione prima del referendum e mi disse hai fatto una cosa bruttissima che non avrei mai dovuto fare l'hai appoggiato pubblicamente il referendum sulla droga legge e mi colpì molto questo si è pentito di questa cosa e probabilmente ho sbagliato non è cambiato niente no no non è cambiato niente però insomma è molto onesto che lei lo dica probabilmente sbagliai in quella questione certamente certamente io lo dissi anche per motivi tattici come evidente c'erano 8-9 8-9 schede era impossibile la scheda rossa andate a portare quella blu certo certo capisco quindi era anche in qualche modo obbligato dirlo però sì certamente sbagliai molto bello quello che lei dice è onesto io la ringrazio grazie come sempre a Mario Segni che ci ha raccontato il 18 aprile del 1993 lei è brava è stata molto divertente grazie a tutti grazie a tutti